Allora, a Geo parliamo spesso di quanto sia importante fare ed essere comunità, perché la felicità e il benessere dei nostri tempi risiede soprattutto in questo, nella capacità di creare delle reti, delle relazioni, di sentirsi persone tra di loro, di scambiarsi solidarietà, amicizia, ma anche economia, di farlo uniti. Allora, noi siamo il paese dei piccoli comuni, siamo il paese dei piccoli centri abitati, abbiamo un tesoro immenso che va potenziato e non è un fatto retorico, perché poi non devono diventare dei luoghi che vivono solo per il turismo due mesi l'anno, bisogna capire che lì dentro ci sono delle potenzialità di vita per il futuro davvero molto importanti, in un momento in cui invece le grandi città soffrono di tanti tanti problemi. Stasera vogliamo raccontarvi le cooperative di comunità, che sono un modello di rinnovazione sociale dove i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi. Lo facciamo insieme a Marco Boschini, che è il coordinatore nazionale dell'Associazione Comuni Virtuosi. Caro Marco, bentornato a Geo, intanto ricordaci, ricorda al nostro pubblico, come deve essere un comune per essere considerato virtuoso? Deve essere sostenibile da un punto di vista ambientale, ma anche da un punto di vista della capacità di essere inclusivo, aperto e solidale. Ecco, è una rete quella dei comuni virtuosi? È una rete che oggi conta circa 150 comuni, presenti in tutta Italia, sono la maggior parte comuni medio-piccoli, abbiamo quattro capoluoghi di provincia e ci estendiamo appunto su tutto il territorio nazionale. Bene, allora cosa sono le cooperative di comunità che ci interessa esplorare questa sera? Sono una grande opportunità, soprattutto per quanto riguarda le cosiddette aree interne, per i borghi, per i centri piccoli, ma potenzialmente anche per i quartieri di una grande città. Sono uno strumento che consente alle persone di mettere insieme i saperi, le conoscenze e le opportunità che un territorio e una comunità possono offrire e su questo fare un investimento anche da un punto di vista occupazionale per fornire servizi e opportunità a quel territorio. Ecco, sono create da e per i cittadini, vero? Possono essere create dai cittadini e possono avere una collaborazione importante sia in qualità di socio ma soprattutto di propulsore, di aggregatore di competenze da parte dei comuni e degli eventi locali. Ovvio, che può dare una mano. Assolutamente. Ne esistono già diverse, vero, un po' in tutta la penisola? Sì, ce ne sono ormai parecchie, alcune sono storiche, altre stanno nascendo in questi ultimi mesi perché davvero sono una grande occasione. Possiamo vederne due nel dettaglio così capiamo bene questo concetto, come poi si sviluppa, come si esprime. Allora, la prima di cui ci parli qual è? Sono due, ne ho scelte due a distanza di circa 900 chilometri l'una dall'altra per dare l'idea che queste cose si possono fare dappertutto, basta appunto la volontà. Una è la cooperativa di comunità di Dossena in Val Serina, un piccolo borgo di 880 abitanti in provincia di Bergamo. La cooperativa si chiama I Rais che è nel... Intanto lì già c'è il ponte tibetano che stiamo vedendo, famoso anche per quello, no? Esatto, il ponte tibetano è una delle azioni che un gruppo di giovani mettendosi insieme e costruendo poi la cooperativa di comunità hanno messo in piedi con l'apporto del comune, grazie degli investimenti e dei finanziamenti che sono stati capaci di intercettare per creare opportunità turistiche e culturali. Hanno ripristinato le vecchie miniere che c'erano a Dossena, che oggi sono un luogo frequentato dalle scuole, un luogo frequentato dai turisti, un luogo dove si stagiona un formaggio del territorio biologico a chilometri zero. Che bello, perché ci sono museo strutturraneo. Assolutamente sì, ed è un luogo che ovviamente consente una stagionatura assolutamente perfetta per la qualità di un prodotto che poi è assolutamente... Come si chiama questa cooperativa? I Rais, che in dialetto bergamasco vuol dire le radici. Ed è anche qui il senso, il fatto che dei giovani del territorio creano la possibilità di creare dei posti di lavoro per fornire servizi agli anziani che in quel territorio vivono. Qui stiamo vedendo la miniera dismessa, è stata recuperata come museo, no? È stata tutta recuperata dal 2014, questi volontari hanno prima ripristinato, ripulito, riaperto le tante gallerie che ci sono in questa miniera che oggi è diventato un luogo molto frequentato. E guardate lì in fondo che c'è, ci hanno messo a stagionare i formaggi. Esatto, esatto. Bellissimo. Si chiama il minatore, il formaggio. Quindi questa è proprio una dimensione che coinvolge i cittadini e che poi procura anche un introito, no? Assolutamente. Cioè, è una forma di economia importante. Il punto centrale è questo. Noi nei borghi abbiamo dei giovani che sono costretti ad emigrare perché non hanno possibilità di lavorare nel luogo in cui sono nati e cresciuti e degli anziani che invecchiano sempre di più e a cui spesso lo Stato volta le spalle perché chiude le scuole, schiude gli ospedali, non porta i servizi. E quindi le cooperative di comunità vanno proprio nella direzione di mettere insieme questi due bisogni e trasformarli in qualche cosa di positivo. E l'altra che ci vuoi raccontare invece è a sud? Sì, andiamo in Puglia, sui Monti Dauni, nella comunità di Biccari, in provincia di Foggia, 2600 abitanti, dove anche qui è stata costituita qualche anno fa una cooperativa di comunità che valorizza il bello che c'è nel territorio, il Lago Pescara, i Monti Dauni e mette insieme la curiosità e la fantasia dei ragazzi e delle ragazze che lì hanno cominciato a fare delle cose che vediamo nelle immagini. Abbiamo la panchina più grande della Puglia, abbiamo un parco avventura che è stato realizzato all'interno. Ecco, questa è la panchina gigante che dicevo prima. Adesso arrivano da tutto il territorio per fotografarsi in questo contesto con uno scenario, con un paesaggio meraviglioso. E questa cooperativa, oltre a creare posti di lavoro, crea anche un beneficio economico che la cooperativa stessa reinveste sul territorio per implementare i servizi che il Comune eroga a favore dei cittadini, dei bambini delle scuole, degli anziani nei centri sociali. Quindi questa è davvero una grande opportunità, una grande occasione. Senti, come si inizia una cooperativa di comunità? Si può avere un aiuto dal proprio Comune? Ci sono dei fondi messi a disposizione? Quello che manca è una normativa, una legge nazionale. Però per fortuna queste esperienze stanno creando le condizioni affinché ci sia un po' più di attenzione da parte delle istituzioni. I comuni sono un elemento fondamentale, come dicevo all'inizio, perché possono fare da collante nella comunità, promuovere questo tipo di esperienze e tutti i cittadini possono costituire una cooperativa di comunità. La prima cosa da fare è guardarsi intorno, riconoscere il territorio, capire cosa si può valorizzare, metterle in rete. E poi unirsi. E poi unirsi e magari chiedere consulenze, una consulenza gratuita a esperienze che sono già consolidate. Beh, grazie Marco, è stato davvero molto molto interessante. Ci vediamo per degli altri approfondimenti sui comuni virtuosi. Grazie a Marco Boschini, coordinatore nazionale dell'Associazione dei Comuni Virtuosi. È stato un piacere.